Strategia digitale, idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Cosa scopriremo oggi insieme? Quali souvenir porteremo a casa dal mondo digitale? Benissimo, una nuova tecnologia perché sapete che ogni souvenir digitale è un qualcosina una tecnologia, un'applicazione, un software, un nuovo gadget tecnologico, un video qualcosa che dal mondo digitale possiamo portarci a casa per vivere meglio la vita e il lavoro soprattutto di ogni giorno Vi parlerò della tecnologia, della trasmissione ossea perché è qualcosa che ho avuto modo di provare su vari dispositivi ultimamente infatti sebbene questa tecnologia è conosciuta, o meglio sebbene questo meccanismo è conosciuto da tantissimi anni addirittura si dice che Beethoven la utilizzava quando è sopraggiunta l'assordità è qualcosa che negli ultimi tempi sta diventando estremamente attuale l'ho provata personalmente e ve ne voglio parlare per darvi la possibilità di scoprire tutta una nuova serie di gadget di strumenti che possono utilizzando questa tecnologia portare anche nel vostro lavoro nella vostra vita, nella vostra formazione quotidiana la tecnologia della trasmissione ossea prima però voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è il luogo dove andare se non volete perdervi nulla ebbene sì perché magari voi siete iscritti al podcast su iTunes nella vostra applicazioncina per ascoltare podcast e va bene o magari avete addirittura scaricato la app di strategia digitale ma c'è un passo ulteriore, un passo in avanti che potete fare il passo in avanti è iscrivervi tramite Telegram perché Telegram consente di avere un canale diretto per voi per beccarvi anche il backstage infatti la scorsa settimana quando ho provato degli occhiali che utilizzano questa tecnologia ho condiviso i video, anche i video di spiegazione di prova su strada di questo dispositivo sul canale Telegram quindi è un modo per ricevere le robe in anteprima ma è anche un canale diretto col quale potete mandarmi i vostri messaggi, i vostri commenti tac, appena ricevete l'episodio fate un click e parlate direttamente con me strategiadigitale.info, andateci voi, mandateci i vostri amici che ancora non hanno avuto modo di scoprire il nostro podcast e ora ragazzi, bando alle ciance, è arrivato il momento di immergerci nel mondo della trasmissione ossea Il souvenir digitale Il souvenir digitale Si chiama Bone Conduction, la trasmissione ossea del suono e sembra essere una tecnologia, un funzionamento del nostro orecchio interno noto da tantissimi anni infatti si dice che Beethoven quando è sopraggiunta la sordità e quindi non poteva più ascoltare con l'orecchio quello insomma l'orecchio normale, non aveva più l'udito tradizionale si è fatto costruire una placchetta di metallo che appoggiava sull'orecchio anzi sull'osso avanti rispetto all'orecchio e la collegava al pianoforte per carpire dal pianoforte le vibrazioni e avere in qualche modo un canale di feedback poter in qualche modo ascoltare la musica che suonava e componeva se questa sia una leggenda metropolitana oppure no, non ve lo so dire ho fatto qualche ricerca ma non sono emerse fonti certe in proposito quello che è certo invece è che tutti noi abbiamo due orecchi cioè non abbiamo due paia di orecchi due modi di ascoltare differenti un orecchio esterno, l'orecchio classico quello che hai a destra e a sinistra che ti puoi toccare ai lati della testa quest'orecchio ha tutto un meccanismo per cui il suono viene captato grazie al padiglione auricolare viene incanalato all'interno di un foro e questo foro che è un buco, un vero e proprio buco nel cranio porta alla vibrazione di una membrana e attraverso un martelletto la trasmissione di questa vibrazione al nostro sistema nervoso e il nostro orecchio questo orecchio è molto sensibile, è capace di catturare un'ampia gamma di suoni ma c'è un altro orecchio eccola là, ho lanciato la matita tant'è che mi sono emozionato c'è un altro orecchio ed è l'orecchio interno questo orecchio interno potete captarlo in maniera molto semplice prendendo il ditino e avvicinandolo all'osso che sta davanti alla cartilagine dell'orecchio oppure appoggiare il dito dietro l'orecchio sull'osso direttamente dietro l'orecchio o ancora appoggiando lo stesso ditino sul naso ecco io ho un naso prominente con una bella gobba mi appoggio mentre parlo il dito sul naso proprio in questo momento e sento una vibrazione questo vuol dire che quando parliamo le vibrazioni provocate dal suono della nostra voce mettono in risonanza le nostre ossa e questo suono trasmesso dalle nostre ossa viene da noi captato infatti e qui un tema che poi tratteremo rispetto alla voce perché molti si vergognano di parlare al microfono di parlare in pubblico di registrare audio video sapete perché? perché la nostra voce non ci piace perché non ci piace? perché è diversa da come la percepiamo cioè quando noi parliamo nella realtà noi percepiamo un suono molto più pieno e ricco di bassi quando invece andiamo ad ascoltare la registrazione della nostra voce ascoltiamo una voce molto più alta con un pitch molto più alto e ci sembra di avere la voce da cretini e per questo non ci piace per questo molti rimangono così ah ma no non mi piace registrarmi non mi piace il suono della mia voce ecco prima di tutto su questo fronte è solo questione di abitudine infatti pensate neanche a me piace il suono della mia voce cioè io tutti i giorni parlo per decine di minuti attraverso il podcast e per centinaia di minuti attraverso altri canali eppure non mi posso riascoltare se mi riascolto ti dico ma guarda che voce da cretino che ho invece quando mi ascolto quando parlo attraverso il podcast mi sento benissimo ecco questo dipende dal fatto che noi ci sentiamo con il doppio orecchio all'interno e l'esterno ma dove nasce potrete dire voi sta fantasia di utilizzare l'orecchio interno ma non mi bastava l'orecchio tradizionale come mai mi devo andare a cercare un modo alternativo perché sebbene questa tecnologia sia usata per chi ha difficoltà diciamo fisiche mediche a livello di audio di orecchio per le persone ipo udenti quindi ci sono dei meccanismi che amplificano il suono e trasmettono il suono attraverso questo orecchio interno per riuscire anche in caso di handicap fisici a trasmettere i suoni in teoria se il mio orecchio funziona a che cosa mi potrebbe servire ebbene qui introduciamo il tema della libertà auricolare della libertà sonora infatti se è vero ne abbiamo parlato molto quando ho presentato gli airpods gli auricolari della apple che sono stati per me una vera e propria rivoluzione nell'utilizzo del digital hanno introdotto questa realmente in maniera molto presente nella mia quotidianità professionale questa percezione di un layer di realtà aumentata audio quindi la realtà aumentata non solo come un layer video guardo il mondo attraverso lo schermo del telefono e vedo delle cose che non ci sono come in pokemon go ma la stessa cosa vissuta attraverso l'audio quindi vado a correre e mentre corro la mattina io lo sperimento tutte le mattine a un certo punto comincio a sentire una musica che ha un bel ritmo e questo ritmo mi coinvolge mi da come un'energia in più e allora corro più velocemente che cos'è che mi ha influenzato in quel caso? mi ha influenzato questo layer di percezione come se nella mia realtà normale dei suoni della natura dei suoni della mattina il rumore dei miei passi il mio respiro si fosse steso un altro strato di realtà uno strato di realtà virtuale che è la realtà della musica allo stesso modo e sto studiando anche gli effetti di questo pensate la possibilità di dialogare con le persone in maniera totalmente libera quindi senza tenere il telefono in mano attraverso degli auricolari come gli airpods che ti danno la possibilità di entrare in contatto relazionale con qualcuno che è in un altro luogo o addirittura in un altro tempo se stiamo parlando di uno scambio asincrono via messaggio audio mentre tu sei in un luogo specifico questa cosa ti dà un effetto molto strano perché io almeno personalmente sono sempre stato capace di legare le informazioni le relazioni i ricordi ai luoghi molto spesso dico a mia moglie ma sì che mi hai detto quella cosa ti ricordi? eravamo lì stavamo facendo quella discesa verso il prato prima di girare a sinistra e proprio in quel luogo mi hai detto questa cosa della quale stiamo parlando quindi lego molto il luogo al tema di cui si è parlato benissimo attraverso questa realtà aumentata auditiva si introduce uno strano incontro tra i luoghi lo spazio che vivi il luogo dove stai e i contenuti che invece possono essere completamente slegati da quel luogo il problema degli auricolari è che gli auricolari sono un tappo nell'orecchio questa è la realtà di fatto metti un tappo nell'orecchio io stesso indossando gli airpods per tante ore al giorno a un certo punto sento un fastidio cioè arriva un momento e la giornata in cui me li voglio togliere e dire ah basta mi sento come la testa come un pallone perché uno posto continuamente sotto sforzo l'orecchio molto di più della normalità cioè nessuno ha qualcuno che gli parla continuamente nell'orecchio parli magari con il collega con la moglie con il marito con l'amico però poi hai dei momenti di pausa mentre attraverso gli auricolari tendi a sottoporre l'orecchio a un a un utilizzo costante a un stress costante per il suono la musica o magari i podcast che ascolti o qualsiasi altro tipo di conversazione telefonate o messaggi audio questo è il primo motivo il secondo motivo è che tutti i suoni intorno risultano falsati perché di fatto è come se ascoltassi al di là del suono che ascolti attraverso gli auricolari ascoltassi i suoni della realtà totalmente ovattati perché hai un tappo nelle orecchie allora da quest'idea dall'idea di consentire alle persone di utilizzare più a lungo in maniera più comoda ed efficace l'ascolto di contenuti digitali o attraverso il digitale il dialogo con altre persone pur mantenendo completamente libero l'orecchio quindi pur consentendo alle persone di avere una percezione dell'ambiente circostante cosa fondamentale per esempio quando guidi sicuramente se utilizzate gli auricolari alla guida dell'automobile secondo il codice della strada italiano puoi utilizzare un puoi occupare un solo orecchio con l'auricolare e lasciare l'altro libero bene avrete visto che dopo un'ora che parli al telefono con qualcuno con un solo orecchio occupato il tuo cervello comincia a fondersi totalmente perché non è una situazione normale una voce in un solo orecchio l'altro orecchio libero che ascolta il suono dell'ambiente circostante invece la trasmissione ossea consente di lasciare le orecchie libere quindi lasciare l'orecchio esterno completamente dedicato alla situazione nella quale stai vivendo e a trasmettere il secondo layer di suono attraverso un secondo canale che è questo orecchio interno quali saranno gli effetti a lungo termine di questo tipo di tecnologia non ve lo so dire potranno essere dai più naturali persone che si adattano all'utilizzo tutti quelli che ho ascoltato dopo un pochino dicono no ti diventa naturale all'utilizzo dell'audio attraverso l'orecchio interno non senti neanche più la vibrazione il fastidio diventa del tutto naturale o forse ci rincoglioneremo tutti quanti e avremo vibrazioni sparse per le nostre ossa diventeremo magari intolleranti all'utilizzo dell'orecchio interno o lo perderemo proprio perché l'avremo posto sotto eccessivo sforzo non si sa quale sarà l'evoluzione di questa tecnologia ma a prescindere dal suo utilizzo possiamo vedere che oggi diventa particolarmente importante in combinazione con i wearable device quali sono state le mie esperienze di conduzione ossea la prima volta che ho provato la conduzione ossea è stato in totale anonimato nel senso che non sapevo di star provando star utilizzando la condizione la conduzione ossea ho ricevuto i miei occhiali da snap gli spectacles direttamente portati da nicoletta una fedele ascoltatrice e finanziatrice di strategia digitale direttamente portati da lei da Miami li ho indossati ho girato un video e sono rimasto veramente colpito dalla qualità dell'audio mazza forte ho girato un altro video un altro video a un certo punto mi sono detto senti ma tu sti spectacles li puoi utilizzare anche senza indossarli quindi mi sono levato gli occhiali ho premuto sul pulsantino e ho cominciato a registrare un video utilizzando gli spectacles in modalità selfie quindi utilizzandoli dall'esterno come se fossero davanti a me poggiati e fossero una telecamera quello che ho notato è che le clip registrate così avevano un audio schifoso e mi sono detto scusami ma perché in teoria se sto registrando e addirittura appunto verso la mia punto la telecamera verso la mia bocca che parla in qualsiasi con qualsiasi altro dispositivo l'audio sarebbe venuto ancora meglio quindi se tu devi registrare per esempio un video con il smartphone ti inquadri l'audio viene molto bene perché viene mandi direttamente in vibrazione il microfono guardandolo da davanti quindi in teoria dovrebbe essere migliore l'audio e invece ho notato che l'audio era molto peggiore mi sono fatto due domande e poi ho trovato sul nasello dell'occhiale spero si dica così insomma sulla parte che si appoggia sul naso due piccoli cerchietti grigi che cosa sono questi cerchietti grigi nient'altro che un sensore per la bone conduction per carpire il suono veicolato dalle ossa del cranio e allora ho detto ah vedi che forza questa cosa la trasmissione ossea e mi si è accesa una prima lampadina qualche settimana dopo proprio parlando degli spectacles con un mio carissimo amico Filippo Labruna che è un ottico è proprio appassionato di ottica ha un negozio di ottica qui a Roma non distante dalla mia zona e lui è uno proprio totalmente appassionato cioè prova tutti gli occhiali più strani l'ho incontrato qualche giorno prima di questo discorso mentre camminavo in un prato esploravo una zona nuova nella riserva della valle della Niene a un certo punto vedo una bicicletta sfrecciarmi contro a tutta velocità dico ottimo ma chi è questo si ferma scende dalla mountain bike era Filippo con un paio di occhiali che stavano registrando un video e subito mi ha detto guarda questo nuovo modello quindi lui è proprio uno super appassionato di occhiali bene Filippo quando gli ho raccontato che questi spectacles questi occhiali di snapchat utilizzano la conduzione ossea mi ha sorriso col suo sguardo sorgnone mi ha fatto anche io ce l'ho degli occhiali che fanno così dico come c'hai degli occhiali che funzionano con la conduzione ossea e si ebbene Filippo aveva finanziato su kickstarter e ricevuto un paio anzi più di uno di zangol zangol sono degli occhiali che utilizzano sempre la tecnologia della trasmissione ossea ma al contrario la utilizzano per trasmettere l'audio hanno la stessa funzione degli auricolari quindi si connettono via bluetooth con lo smartphone ma appoggiati sulle orecchie vanno a toccare nella parte dietro l'orecchio e a trasmettere tramite un piccolo trasmettitore che vibra questa vibrazione per mandare il suono direttamente alle ossa del cranio lo sono andato a trovare ho pubblicato un piccolo video per chi segue strategia digitale tramite telegram quindi avete anche visto che sono occhiali molto carini poi hanno la scrittina a zangol che si accende quando qualcuno ti telefona abbiamo fatto vari test e quello che vi posso dire è che la sensazione quando provi un occhiale del genere è stranissima c'hai una specie di cicala che vibra dietro l'orecchio e utilizzandolo per la musica ecco la sensazione non è estremamente positiva non direi che è un piacere ascoltare la musica tramite gli zangol al contrario quando vai a utilizzare gli zangol per una chiamata vocale quindi una telefonata o la registrazione di messaggi vocali o l'ascolto di messaggi vocali insomma con la voce se la cavano molto molto bene addirittura Filippo li utilizza come viva voce si leva gli occhiali li appoggia sul tavolo e utilizza gli occhiali come viva voce ora senza arrivare a questo finché li utilizzi indossandoli e beneficiando della trasmissione ossea mi pare che funzionino molto molto bene oltretutto costano un centocinquanta dollari sono già ordinabili online e sono devo dire un qualcosa di interessante secondo me appunto non per la musica ma per le telefonate e per ascoltare i podcast quello che è particolare naturalmente questa tecnologia è la stessa dei Google Glass quindi vedete che non sono solo prodotti di nicchia gli occhiali di Snapchat magari l'occhiale particolare Zangle ma anche i Google Glass nella loro sperimentazione hanno utilizzato questa tecnologia quindi un oggetto che è pensato per far vedere il futuro va a utilizzare la tecnologia della trasmissione ossea questo in qualche modo è una garanzia che ne sentiremo parlare e ne sentiremo parlare sempre di più la sensazione stranissima è quella di ascoltare l'audio all'esterno l'audio della realtà cioè non senti la musica o la telefonata più forte rispetto alla tua realtà ma senti hai la stessa sensazione di avere un un piccolo una piccola cassa ecco diciamo appoggiata dietro la testa e dalla cassa tu senti l'audio ma senza perdere il contatto con l'audio esterno i benefici di questo sono enormi partiamo dai benefici di sicurezza alla guida posso avere più controllo sull'ambiente esterno non solo alla guida dell'automobile ma anche quando vado in bicicletta io per esempio amo ascoltare la musica o ascoltare messaggi vocali mentre sono in bicicletta beh senz'altro avere non quella situazione in cui hai orecchio occupato orecchio libero con gli auricolari ma hai tutte e due gli orecchi esterni liberi e solo l'orecchio interno occupato può essere l'ideale ma anche le situazioni sociali la prima cosa che si fa quando si incontra qualcuno indossando gli airpods ora chi di voi ha gli airpods dica la verità me lo confermi è levarsi gli airpods cosa molto scomoda perché poi hai questo piccolo auricolare in mano devi riaprire la custodia ficcarlo dentro diciamo l'auricolare la possibilità di ascoltare audio digitale è in qualche modo l'opposto dell'ascoltare le persone che ti stanno intorno diciamo devi disattivare la modalità auricolare e entrare nella modalità audio della realtà mentre utilizzando l'orecchio interno le tue cose si integrano a perfezione addirittura esistono non con la tecnologia della trasmissione ossea degli auricolari simili agli airpods che captano e amplificano l'audio circostante quindi senti tutto mixato in un unico flusso audio sia l'audio proveniente dalla realtà sia quello che arriva attraverso canali digitali è un altro modo di approcciarsi e risolvere il problema del conflitto tra l'ascolto dell'audio digitale e la necessità di ascoltare anche quello che ti dicono le persone che stanno intorno al ristorante sul luogo di lavoro fino a oggi in qualche modo ascoltare la musica mettersi gli auricolari è stato un modo di isolarsi quello che vediamo con la tecnologia della trasmissione ossea è che ascoltare l'ascolto dell'audio digitale non è più un isolamento ma una vera e propria amplificazione amplificazione del nostro potere auditivo siamo arrivati alla fine della nostra puntatina bene spero che vi abbia solleticato questa tecnologia della trasmissione ossea fatemi sapere se l'avete provata scrivetemi su telegram magari mandatemi un bel selfie del dispositivo indossando il dispositivo che utilizzate con la trasmissione ossea ci sono tanti diversi tipi di cuffie anche quelle più specializzate nella musica che si appoggiano nella parte davanti dell'orecchio quindi raccontatemi quali sono le vostre esperienze qua è tutto terreno da scoprire quindi in qualche modo le nostre esperienze mixandole condividendole unendole possono darci uno sguardo sul futuro di questa tecnologia farci capire in anticipo come andrà a finire e come approfittare al meglio di questa innovazione tecnologica io voglio ringraziare di cuore tutti gli innovatori che scommettono su strategia digitale ogni mese chi sono i produttori di strategia digitale coloro che finanziano il nostro podcast c'è tutto un mondo da scoprire perché strategia digitale vive cresce e prospera grazie a voi ascoltatori se non sapete di che cosa si tratta facciamola breve andate su youmediaweb.com slash finanzia e esplorate il mondo del nostro progetto di crowdfunding il mezzo attraverso il quale la community di strategia digitale consente a questo podcast di crescere e di realizzare cose incredibili un grazie di vero cuore a tutti i produttori e vi aspetto numerosi nuovi produttori non vedo l'ora di potervi ringraziare in diretta nel frattempo ringrazio Sara Veltrico autrice del programma il nostro carissimo fonico Costanza Mineo come si dice fonico o fonica ma diciamo fonico e radiospeaker.it per il sound design ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano grazie mille